Padre, parla alla gente E fammi un partitone Ma va in campo e spacca tutto Ha giocato come se stesse al mare Ma in campo devi fare una prestazione di gioco Siccome c'è il Paris Saint Germain che mi dà Vuole tante Fammi vedere Più brutte che abbia mai fatto nell'ultimo periodo Io se sono De Laurenti, che fai? Giochi così? Ma tu stai tre anni da me Uno contro uno, non ha mai saltato l'uomo Ma dai, ma sono Veramente sono vergognosi Ha perso una palla a un certo punto due contro una, ha dato la colpa al compagno Sì, sì, è perché Un contropiede glamoroso Una riconquista a palla a passa Su Leao che dici? Leao male Il solito Leao Leao male Sono d'accordo con te Ma ci avevi preso, caro Piccari Ci avevi preso Io nutrivo delle speranze Però insomma credo che Mica un giocatore scarso, attenzione No, ho capito Fai io capire Adesso risinaccio Se no ricominciamo Arrivano a mitragliatra Sono solo i messaggi Piccari hai detto che non è È tutta una bugia Però lui è permaloso Poi dopo fai quelle prestazioni Si irrita, hai visto? Si irrita in campo Poi dopo scompare Il secondo tempo 15 minuti non ha mai preso Ci hanno detto che non l'hanno mai cercato Tu sei d'accordo anche su questo? No ma lui Lui si è auto-escluso Si è andato a nascondere Vicino a Cristiano Ronaldo Il secondo tempo C'era la fascia Con Mendes che spingeva lì E lui Il primo tempo Ha fatto una giocata bella Sì, una giocata Poi si è spento Veramente poco Ma questo è An ira di Dio Cioè veramente Fa una rabbia incredibile Ha tutto Tranne secondo me La voglia di Di essere un fenomeno Perché Però tu Io ascolto poi Soprattutto Le considerazioni E mi devo arrendere L'idea che Ho perso Questo tipo di battaglia No Leao No Leao è questo E quindi Ragione Piccari Adesso Mi consegno Mi consegno No Beh insomma Adesso Ho capito Ti presenti agli europei C'hai nonno Ronaldo Cavolo che è stato Il migliore in campo C'ha 40 anni Il 5 febbraio C'ha la fascia Incazzata sempre Ma dai Quanti anni c'ha lui 23 Ma devi A dare il campo Contro la Repubblica cieca Con tutto il rispetto Sempre Non è